Uscire in barca per una giornata di pesca a largo, ascoltare le storie dei pescatori, mentre raccontano il loro mestiere e sistemano le reti, conoscere il mare, la cultura della pesca, rientrare al masuccio salernitano per degustare il pescato. È un'esperienza irrinunciabile, Pesca Amica è il progetto promosso da Coldiretti Salerno, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e la cooperativa Acquamarina per far conoscere la realtà della pesca locale, valorizzando il connubio tra miglio zero e chilometro zero. Tutto questo è pescaturismo, il modo più autentico per conoscere la cultura del mare e della pesca, che permette di salire a bordo di pescherecce e di rimarcazioni e di scoprire la costa e il pescato. E quanto ha sottolineato il direttore provinciale Coldiretti Enzo Tropiano ieri pomeriggio, nel corso di un tour dedicato ai giornalisti, per presentare il progetto che parte ufficialmente oggi. Effettivamente è un'idea che mancava. Questa iniziativa di pescaturismo fatta effettivamente dai pescatori salernitani consente a tutti i consumatori di poter godere di questo mare, ma soprattutto di poter conoscere anche i pesci che abbiamo nel Golfo di Salerno. Questa è la prima serata di dieci che proseguiranno per tutta l'estate una volta alla settimana. Tutti i consumatori salernitani che si prenoteranno presso il miglio zero potranno fare un'uscita in mare direttamente con i pescatori. Questo ovviamente gratuitamente è un'iniziativa supportata dalla Camera di Commercio di Salerno e da Coldiretti e grazie alla cooperativa Acquamarina, che è questa bellissima cooperativa con questa bella esperienza del miglio zero che coniuga la conoscenza del mare con la conoscenza della terra e dei sapori. Infatti questo ristorante consente di cucinare direttamente il pescato, consente ai consumatori anche di migliorare la loro conoscenza e di banalmente anche consentirli di riconoscere il pesce perché oggi i consumatori salernitani non conoscono il buon pescato salernitano, talvolta non conoscono nemmeno se il pesce è fresco o è decongelato. Quindi grazie proprio alla voce dei pescatori potranno approfondire queste conoscenze e quindi supportare anche la loro attività. Per passare una giornata diversa, ideale per esperti o per chi il pesce lo conosce solo come pietanza, la cooperativa Acquamarina di Salerno con la sua flotta per la piccola pesca mette a disposizione le proprie imbarcazioni per effettuare escursioni lungo tutto il litorale, tutti i giorni con partenza dal molo masuccio salernitano dalle ore 15 e rientro alle 19.30 con la possibilità anche di escursioni notturne, un'occasione preziosa poi per mangiare pesce freschissimo cucinato secondo le ricette della cucina salernitana. Questa è l'intenzione della nostra iniziativa della pescaturismo, far scoprire sia ai cittadini salernitano, soprattutto a loro e anche ai cittadini che sono di fuori Salerno, far scoprire il vecchio mestiere del pescatore, vivere una giornata, una battuta di pesca reale come nella durezza del mestiere del pescatore, questa è la nostra intenzione, far capire quando per prendere un chilo di pesce il lavoro fatto, il mestiere che è un mestiere molto pesante. L'ha fatto vedere due tipi di pesca diverso, uno delle reti a triglie, triglie grandi però, non di piccole, perché usano la maglia grande. E poi un altro tipo di pesca che si chiama in dialetto volo tunno, in italiana è una calata di rete che è sempre a giro, a giro per astringere il pesce che sono le murmure. Questi sono i due tipi di pesca che hanno fatti i ragazzi. Poi ci sono altre barche che adesso stanno calando per prendere i mazzagogli, però quelle che vengono di reato questa notte.